Ciao a tutti e benvenuti in questa recensione della Montblanc Calligraphy 149 con il pennino curvo. Una recensione che mi è stata chiesta da un po' di persone e quindi ho deciso di farci un video direttamente. Quindi partiamo subito con l'unboxing. La scatola si presenta così, è sul verde, con queste decorazioni che vanno a riprendere il comportamento del pennino a seconda di come lo si usa. Dentro la confezione troviamo la sua scatolina, come sempre. E dentro la scatola troviamo la penna. La penna è una normalissima 149 come dimensioni e come aspetto. Poi troviamo un opuscolo. Questo opuscolo che ci consiglia, ci dice un po' come usare il pennino. A seconda di come usiamo il pennino poi vedremo, possiamo variare il tratto. Loro ci consigliano di andare orizzontale, verticale, variare l'inclinazione della penna e provare anche il pennino a testa in giù, al rovescio. Molto utile per chi ha le prime armi o chi vuole, chi non è sicuro di come si usi. E il libretto della garanzia. Nient'altro. E questo è il packaging. Ovviamente è sempre molto elegante, ma anche un po' povero per il prezzo. La penna è questa e, diciamo, la cosa importante della penna in questo caso è il pennino. Il pennino ovviamente è in oro 18 caratti, ma come potete vedere ha un... Vediamo quanto riesco a mettere a fuoco. Qua. Si dovrebbe riuscire a vedere, ma metterò anche altre immagini, il pennino che è curvo. Almeno Montblanc lo definisce curvo, poi qualcuno non dice che sia un architect, qualcuno dice che non è proprio un architect. Per me l'importante è che scriva bene ed è una cosa che sicuramente fa questo pennino. Ho comprato la penna a gennaio, siamo ad aprile, quindi l'ho usata già molto in questi mesi. E vi posso assicurare che è un pennino bellissimo. Fatto molto bene e ovviamente, vabbè, sì, in oro. Quindi molto elegante la penna e tutte queste cose che non ci interessano. Proviamo invece come scrive, perché poi alla fine quello che ci interessa è proprio come scrive la penna. Quindi, vediamo un poco, facciamo qua, devo ingrandire, tac 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 tac, ecco qua. E iniziamo, quindi i diversi tratti sono, abbiamo detto orizzontale, quindi doppio broad, verticale, M. E poi loro ci consigliano di variare l'inclinazione della penna per, appunto, variare anche il tratto, la larghezza del tratto. Quindi noi proviamo così. Poi un po' meno, un po' meno. Quindi vediamo che, a seconda dell'inclinazione della penna, riusciamo a ottenere una variazione veramente importante. Per finire con la penna al contrario, secondo me qua si arriva addirittura a un extra fine. Quindi si parte da un doppio broad, come dicono loro, a un tratto che secondo me è extra fine, è veramente fine questo tratto. E scrive molto bene la penna, sia, ovviamente, a pennino normale, sia a pennino a testa in giù. Quindi col pennino normale, ovviamente questo, questo è un pennino da un flusso molto generoso. Non ci si potrebbe aspettare altro, ovviamente. Non ha mai un'incertezza, scrive sempre. Io in tutti i mesi che l'ho usata. A differenza, per esempio, della sorella, quindi di questa che è la Flex, questa non ha mai, mai un'incertezza. Mentre l'altra con un po' di carte, secondo me, aveva dei problemi. Questa invece, sempre, sempre reattiva, scrive sempre. Quindi qualche esempio di scrittura. Per chi ha visto già dei video che ho fatto su Instagram, probabilmente è questo qualcosa che avete già visto. Perché il modo in cui io la uso è ovviamente un modo... La uso per fare degli stili calligrafici. Quindi, nel mio caso... Adesso scriverò Montblanc. Montblanc 149. Maestro Stuc. Maestro Stuc. Calligrafici. 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 Curved. Curved. Quindi vediamo come possiamo fare tante variazioni. In questo caso passiamo, come qui, da un tratto molto largo a qui con un tratto molto fine. Ed è questa la parte divertente di questa penna. Ovviamente potremmo anche scrivere più così, cambiando in continuazione da fine a largo, fine a largo. Ovviamente ci prende più tempo, però secondo me con un po' di pratica si riesce anche a... Avere una variazione del tratto direttamente con un movimento solo. Ok? Quindi chi è più abituato a penne... A brush pen. Sicuramente questo è un vantaggio. Si riesce a usare questa penna molto tranquillamente. Scrittura normale anche. Ovviamente nessun problema. Quindi... La scrittura normale scriverò. Ovviamente per... Quindi anche su una scrittura più corsiva, anche se preferisco... Preferisco usare ovviamente la penna al contrario per una scrittura più pulita. Si può anche scrivere così. Ovviamente punto debole della penna è il prezzo. Perché si aggira intorno al migliaio di euro. Io l'ho pagata a 960. Ho visto che in alcuni... Forse ci sono alcuni store dove si trova anche a 1000 euro, 1050 euro, 1100 euro. Quindi sicuramente il prezzo è un po' proibitivo. Bisogna veramente volerla usare. Quindi quello che vi consiglio è di provarla. Se avete l'occasione di provarla anche in negozio. O se conoscete qualcuno che ce l'ha di farvela provare. Prima di decidere se prenderla. È una penna per divertirsi. Non è una penna per prendere appunti secondo me. O almeno io non la userei mai per prendere appunti. Però vi posso assicurare che ce l'ho da 3 mesi, 4 mesi adesso. E l'ho usata tutti i giorni per scrivere. È la penna che è sempre carica, sempre pronta a scrivere. Perché la uso tanto. E mi ci diverto tantissimo. Bene, questa è stata una veloce recensione della Montblanc Calligraphy 149. Spero sia stata utile a qualcuno. Se avete delle domande, dei commenti, lasciateli qui sotto. Oppure scrivetemi su Instagram. Sarò felicissimo di rispondere a tutti. Buona serata e a un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!